Io sono Matteo Paravicini, arbitro di Palacanestro e facevo parte quest'oggi del gruppo Lettavolo Arbitri e praticamente è stata una discussione molto interessante e molto dibattuta, non ci sono stati momenti in cui non c'erano proposte che attitavano e fondamentalmente si è posta molto attenzione sul lavoro del dirigente arbitro e l'innovazione che vogliamo proporre è la proposta di fare un albo dell'intelligente arbitro che è bene e che siano sempre più controllati e di conseguenza proporre l'obbligatorietà di un clinic ad inizio anni di aggiornamento per l'intelligente arbitro in maniera tale che anche le categorie più piccoli siano tutelate da questo punto di vista perché è importante che i regolamenti siano ben insegnati dalle categorie più piccole.